È felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. La casa vanta un ampio soggiorno per distenderti e rilassarti. Cucina e zona pasti che susciterà interazioni familiari. Camere da letto di buona misura con ampio spazio. Giardino ben disegnato di buona misura. Chiamaci per vedere la vostra nuova casa oggi.